Ben trovati a tutti i radioascoltatori, io mi presento, sono il dottor Vincenzo Passali, sono Torino Laringoiatra all'ospedale civile di Pescara e sono diacono permanente della diocesi di Pescara Penne. Vorrei trattare di questo argomento che investe molto alla mia professione e è fonte anche di continui confronti con i miei colleghi. Le otiti sono delle patologie molto frequenti, specie in questo periodo estivo, il pronto soccorso è pieno di questo problema. Vorrei iniziare facendo innanzitutto un cappello introduttivo, parlando innanzitutto dell'anatomia dell'orecchio. L'orecchio è diviso in tre parti, l'orecchio esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno. L'orecchio esterno è formato dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno. Il padiglione è costituito da una cartilagine rivestita da pelle che è aderente alla cute e è costituito da un tessuto cartilaggino pericondrio e poi dal condotto uditivo che poi andrà a finire nella membrana timpanica. L'orecchio medio è contenuto nella rocca petrosa dell'osso temporale. Nell'orecchio medio si trova la membrana timpanica che è una sottile membrana sensibile alle onde sonore. Le vibrazioni raccolte dalla membrana del timpano vengono successivamente trasmesse a trossicini, la cosiddetta catena ossiculare, costituiti dal martello, dall'incudine e dalla staffa. Tutto questo poi andrà a finire praticamente la staffa a contatto con l'abirinto attraverso la finestra ovale e viene stabilizzata dal muscolo stapedio che è il più piccolo muscolo del corpo umano che è lungo circa un millimetro. I tre ossicini sono contenuti in una cavità che è la cosiddetta cassa del timpano che comunica all'esterno con un piccolo canale che ha una lunghezza di 3-4 centimetri che è la tomba d'ostacchio o cosiddetta anche la tuba uditiva che va a sboccare nel rino faringe. Passiamo poi all'orecchio interno. L'orecchio interno è costituito da due porzioni, definite labirinti. Il labirinto osseo costituisce la cavità interna ossea scavata nell'osso temporale e il labirinto membranoso che è presente internamente al labirinto osseo e tra le due porzioni è presente un liquido chiamato perilinfa mentre internamente agli organi del labirinto membranoso è presente l'endolinfa. Possiamo dire che l'apparato vestibolare, cioè il nostro organo dell'equilibrio utilizza l'endolinfa mentre le cellule sensoriali, allo stesso modo della coclea utilizzano questi stimoli per spedire informazioni al cervello e queste informazioni riguardano la posizione, la rotazione e l'accelerazione della testa e del corpo. Per quanto riguarda la staffa vibrando la finestra ovale della coclea trasmette l'impulso cinetico alla perilinfa contenuta nel condotto cocleare attraverso l'endolinfa le onde vengono trasmesse dalla scala vestibolare alla scala timpanica. Sulla membrana basilare noi troviamo poi l'organo del corti una struttura cellulare fatta di un doppio ordine di cellule acustiche ciliate sia interne che esterne. Passiamo un attimino ai sintomi i sintomi otologici possiamo avere vari sintomi o l'otodinia o l'otalgia o l'otorrea cioè la fuoruscita di secrezione dall'orecchio la sensazione di orecchio chiuso la vertigine la paralisi del facciale e possiamo avere anche la cefalea l'otodinia può avere varie origini può avere origine praticamente l'otodinia potremmo dire che è di origine auricolare cioè riguarda proprio l'orecchio se riguarda il padiglione possiamo avere l'otoematoma la pericondrite oppure possiamo avere il nodulo doloroso dell'elice o anche dei tumori che possono riguardare il padiglione auricolare che possono essere ad esempio i carcinomi spinocellulari se ci sono invece infezioni che riguardano il condotto uditivo possiamo avere sia un'infezione che riguarda l'orecchio esterno le cosiddette otiti esterne ne ho viste tante in ospedale che sono caratterizzate da un riconfiamento del condotto viva dolorabilità ipoacusia e tante altre cose oppure possiamo avere anche dei fruncoli nel condotto uditivo possiamo avere delle infezioni di origine fungina le micosi oppure anche il condotto uditivo può essere colpito da tumori per quanto riguarda il timpano possiamo avere sia una perforazione traumatica del timpano a seguito a volte anche uno schiaffo può determinare questa cosa qui oppure anche un tuffo oppure infezioni che riguardano esclusivamente la membrana timpanica che vengono chiamate i miringiti per quanto riguarda invece le problematiche dell'orecchio medio possiamo avere le classiche otite medie acute che possono complicarsi ci possono essere anche delle otiti chiamate anche barotraumatiche che poi vengono esacerbate dagli sbalzi di pressione anche causate ad esempio quando si prende l'aereo si può incorrere in questo tipo di otite e anche dei tumori che possono riguardare l'orecchio medio e poi ci possono essere delle patologie che invece riguardano proprio la base del cranio come le petrositi cioè le problematiche che riguardano la rocca petrosa e i tumori dell'orecchio interno possiamo avere un altro tipo di sintomo che invece è l'otalgia l'otalgia direi che rispetto all'otodinia è un dolore riflesso che si irradia che si irradia nell'orecchio ma che non origina dall'orecchio possono esserci delle cause dentali problemi odontogeni se ci sono degli ascessi delle parodontopatie oppure problemi legati alla faringe delle faringiti a volte delle stomatiti aftose oppure anche delle problematiche che riguardano la lingua delle glossiti e queste problematiche causano ecco un'irradiazione del dolore anche all'orecchio per cui il paziente viene rifarendo dolore all'orecchio però poi l'origine non è l'orecchio bensì ecco sono altre strutture vicine a volte come dicevo prima queste faringiti sono causate da veri e proprio tonsilliti quindi delle tonsilliti violente possono dare problematiche e irradiare il dolore a carico dell'orecchio spesso anche l'otalgia può essere causata anche da un intervento di tonsillectomia tante volte i pazienti dopo l'intervento il giorno dopo riferiscono dolore all'orecchio ti chiedono di controllare l'orecchio l'orecchio non ha problemi e invece la causa è l'intervento chirurgico cioè la tonsillectomia ci possono essere anche delle cause che riguardano la laringe quindi delle laringiti e anche delle irritazioni delle ghiandole salivari quindi ad esempio delle parotiti ma anche delle scialoadeniti che riguardano le ghiandole sottomandibolari possono dare come sintomo l'otalgia poi ci sono le otalgie che sono di origine neurologica e quindi ci possono essere delle nevralgie del nono nervo cranico oppure ad esempio che riguardano il nervo auricolo temporale delle nevralgie che riguardano il nervo facciale infatti coloro che hanno a volte paresi del facciale hanno questo tipo di dolore che si irradia all'orecchio oppure ci sono delle nevralgie che riguardano il plesso cervicale ci fermiamo un attimo adesso per una breve pausa a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i radioascoltatori,